La prima persona che ho riconosciuto è stato Buttiglione. Avevo 12 anni, quindi più di 20 anni fa. In 20 anni dentro questa stanza ci saranno stati mille discorsi per far migliorare questo Paese, invece oggi ci troviamo qua con un'Italia che sta decadendo. Stiamo votando un provvedimento che è basato su errori. Ora esiste un proverbio che dice che gli errori si commettono, ma è per questo che c'è una gomma per ogni matita. Noi oggi abbiamo in mano quella matita e possiamo cancellare un errore che questo Governo ha commesso e possiamo riscriverlo e possiamo cercare di far passare un Buon Natale a quelle 130 famiglie che non passeranno fatto un Buon Natale per un errore commesso. Quindi abbiamo in mano quella matita oggi e io vi prego di usarla nel migliore dei modi, perché voi farete un Buon Natale, ma loro no. Grazie, non le persone. Allora, 1.91 Pesco, parere contrario Commissione-Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Intanto che i colleghi votano, avverto che il gruppo sinistra italiana Sella ha esaurito anche gli ulteriori tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. Come già fatto in precedenti, analoghe circostanze, la Presidenza consentirà ai deputati di tale gruppo lo svolgimento di brevi interventi della durata di un minuto da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Ci siamo, non hanno votato tutti. Fabri. Sì, Fabri, l'ho detto. Ha votato, non vedo. Sì, Frusone. Mi faccia un segno se ha votato, perché non vedo nulla. Mi pare che abbiano tutti votato. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Come preannunciato, sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 21.15. 21.20. 21.20. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.